Allora ragazzi sto facendo questo video così in velocità e non è un video che durerà poco, cioè no, 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 è più! Allora in poche parole cosa devo fare? Carissimo youtuber, mio anche amico, collega youtuber, vi lascio il suo canale in descrizione, ha fatto una poop su di me, ok? ETP mettiamo appunto che lui fa, ETP, e ha fatto una poop su di me, che andremo a recensire in questo video, infatti la guarderò col mio bellissimo iPhone Voi nel frattempo la troverete qua in alto, è un ETP di forse due minuti neanche No, allora, buon moment E ciao a tutti ragazzi, staggredito E ciao a tutti ragazzi, bene ragazzi, penso che il video possa terminare qua, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Qua Biazzer chi parla, oggi siamo qua in questo nuovo video, siamo oggi su Parco Giochi insieme a tre miei amici che ora saluterai Quindi Matteo ti chiedo anche di spiegare di cosa tratta questa modalità di gioco, grazie Eh no, io subito vengo fucicato No, non puoi caricare, no, io ci si parla, basta Non puoi caricare queste cose ragazzi Guarda dove mi sparo, lo schifo, lo state vedendo Dottor Schifo Dottor Schifo Sì, basta che non imbraccio un fucile da Sars, quello è il problema Hai 44, facciamo 10 minuti Madonna, raga, stavo cadendo e mi sono salvato tantissimo Volevate che vorresti maleverti Vole... Eh, volevi... Eh... Eh... Non fatto male NANI?! OMAE HA MÒ SINDE IRU E VINCE LA PARTITA Così Tuttavia 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 Porco Gecchio Tuttavia Ragazzi Non siamo almeno I amici che fa video insieme Una volta anche Alessandro faceva video insieme a me Prima di Matteo Però poi lui ha chiuso il canale Adesso si è aggiunto Matteo E ci prendiamo in giro a vicenda Quindi Probabilmente Ora farò modo che il suo canale verrà chiuso Ciao Matteo Se stai guardando questo video Sono pronto a rovinarti la vita Ora attendi che edito questo Io ti rovino la vita Comunque ragazzi appunto Era questo il video Il video della reazione a questo maledettissimo A questa maledettissima poop La prima volta che mi fanno una poop Che tra l'altro mi fa anche ridere Di solito mi fanno tutto schifo Ma le poop degli altri youtuber Ma stavolta una poop addirittura su di me Mi fa ridere Quindi Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao ragazzi